Ciao a tutti, sono Matteo, vi parlo da Cambiago per la nostra quarta edizione dell'unboxing settimanale. Oggi ho deciso di presentarvi 10 articoli di antiquariato. Vi chiederete perché l'antiquariato? Perché ha avuto, come molti di voi sapranno, un momento di difficoltà, quindi i prezzi sono assolutamente accattivanti e sta tornando di moda, sta tornando molto l'antiquariato e quindi oggi vi diamo una bella sventagliata di nuovi prodotti. Quindi partiamo da questo armadio provenzale, il nostro primo articolo di oggi. Appunto, armadio provenzale, quindi ci troviamo in Francia, nella metà del XIX secolo. È un armadio in noce e ha due ante pannellate. Ne ho aperta una appunto per farvi vedere sia la parte esterna che poi la parte interna. Ovviamente tutta la parte interna si può rimodulare per come siete più comodi. Volete togliere l'anta, volete aggiungere un'anta, la usate per le vostre magliette, oppure se dovete fare un appeso possiamo aggiungere un'asta orizzontale. Qualsiasi richiesta verrà esaudita. Le misure sono 221 cm di altezza, 159 di larghezza e 54 di profondità. Il suo prezzo è di 820 euro. Passiamo al secondo articolo, sempre nella magnifica zona armadi. Non siamo a Narnia, come qualcuno potrebbe pensare, ma di fronte a un bellissimo armadio neorinascimento, dell'inizio del XX secolo in noce italiano, sorretto da piedini a mensola. Presenta una coppia di ante, come potete vedere, riccamente intagliate, tramontanti, anch'essi intagliati, con putti e fiocchi. Tutto di gusto molto neorinascimentale. L'armadio ha queste misure, 248 cm di altezza, 188 di larghezza e 78 di profondità. All'interno vi facciamo vedere che c'è anche una cassettiera, vediamo se Giada riesce a passare, eccola, e presentiamo questo bellissimo articolo a 1390 euro. Ci state chiedendo in molti, dove metto tutti i libri che ho comprato allo You Can Read online? Abbiamo qui la nostra libreria francese. Torniamo in Francia per questa libreria della fine del XIX secolo e ve la presentiamo. Allora, è in Mogano, ha due ante pannellate, sormontate da altrettanti cassetti. Eccoli qua. E inquadrata i tramontanti a 45 gradi. L'alzata ha due ante con vetri soffiati. Apriamo per far vedere che poi gli interni sono in rovere. Le misure sono 212 cm di altezza, 130 di larghezza e 51 di profondità. Il suo prezzo è di soli 720 euro. Facendo gli auguri a tutte le nostre donne che ci stanno seguendo, passiamo al quarto articolo di oggi, che è il mio preferito. Ma non scappate, perché dopo c'è una sorpresona per voi. Elegantissimo armadio eduardiano inglese della fine del XIX secolo in Mogano, Mogano famoso nelle produzioni dell'Oltremanica. Allora, dicevamo, fine del XIX secolo è sorretto da piedini e tronco piramidali. Nella parte centrale presenta 4 cassetti più una fila di 3 cassetti, sormontata da questa coppia di ante. Gli ornamenti sono questi in tarsi, in stile Adams, e le serrature sono marchiate Obs & Co. London, che è un'importante azienda attiva nel XIX secolo in Inghilterra. Vi faccio vedere l'apertura, che è molto bella. e anche gli interni. Vi ricordo velocemente le misure, che sono 216 x 223 x 63 e il suo prezzo, vi aspetterete un prezzo stratosferico, invece no, 930 euro. Siamo a metà. Quinto articolo di oggi. Comò con specchiera, neorinascimento. Ci troviamo in Italia all'inizio del XX secolo. Il Comò è interamente in noce ed è sorretto da piedini a mensola. Sul fronte presenta 3 cassetti più 2 posti nella fascia sottopiano. Vediamo uno aperto. Sul piano poggia una bellissima specchiera con cornice sagomata a ricciolo. Le misure sono 207 di altezza. Scusa, faccio una precisazione. 207 a questa altezza, 107 invece l'altezza del solo Comò. 145 di larghezza e 61 di profondità. Il suo prezzo è di 490 euro. Oggi giro dell'Europa. Torniamo in Inghilterra per presentarvi questo comodino in stile del XX secolo. È in mogano, come di consueto per i mobili inglesi, sorretto da piedi tronco piramidali. Sul fronte presenta un'anta. Sono montata da un cassettino ornato con filettature geometriche in acero. La sua altezza è 81, la larghezza 41 e la profondità 39 lo presentiamo a un prezzo di 320 euro. Eccomi qua, seduto su questa bella cadreghina che non è sola ma fa parte di un gruppo di otto. Sono appunto otto sedie in stile barocchetto dell'Italia del XX secolo. Sorrette da gambe mosse e con seduta imbottita e schienale a giorno. Sono state laccate e argentate. Si intravede qualche dettaglio argentato. Le misure sono 91 cm di altezza, 50 di larghezza e 53 di profondità e il prezzo per tutto il gruppo di otto è di 720 euro. Guardate che meraviglia! Piccolo spoiler, questo è un mobile che vi presenteremo la prossima settimana. Oggi ci concentriamo invece su questo mobile impero che Giada ci sta mostrando. Allora, primo quarto del XIX secolo. In noce è sorretto da piedini, quelli posteriori a plinto che purtroppo non so se riusciamo a vedere, ma quelli anteriori torniti. Sul fronte presenta due cassetti inquadrati tra coppie di colonne con base a capitello in bronzo dorato. L'abbiamo anche aperto per farvi vedere tutta questa parte, molto carina. Le misure sono 183 cm di altezza, 126 di larghezza e 62 di profondità. Il suo prezzo è di 570 euro. Se vi è piaciuto il comò neorinascimento che abbiamo visto poco fa vi intrigherà ancora di più sapere che questi sono i suoi comodini ritirati nella stessa casa. Quindi, sempre neorinascimento, Italia, XX secolo. Sono in noce e riccamente ornati da intagli, come vi sta facendo vedere Giada. Presentano tre cassetti, di cui uno posto nella fascia sottopiano, come nel comò di prima. L'altezza è 78 cm, la larghezza 64 e la profondità 36. Il prezzo per la coppia è di 450 euro. Giada, dove sei? Eccomi! Mi ero perso tra le nostre corsie di antiquariato. Il nostro decimo articolo di oggi, non è un articolo, ma la sorpresa che vi dicevo. Abbiamo creato una nuova area, che è l'area Selected. Qualcuno l'avrà magari già vista sul sito. È un reparto speciale, diciamo, dove i nostri esperti selezionano i prodotti più rari da tenere un pochino separati rispetto al resto. Ve le facciamo vedere in anteprima. Eccola qua. Vi facciamo vedere, vi diamo qualche esempio, poi è molto più ricca. Ad esempio c'è questa grande cassettiera con alzata, barocchetto emiliana. Guardate che eleganza. Oppure una coppia di Comò Luigi XVI. Eccola qua. Sempre Emilia Romagna, Piacenza. Qualcosa di nuovo che non troverete ancora sul sito, come potete vedere dalla scheda. Magari ve lo presentiamo nelle prossime edizioni. C'è questo cassettone neoclassico lombardo, con un bellissimo marmo. E poi una varietà di oggetti, armadi, console. Facciamo fare un giretto qui. Questo scrittoio. Sono passato prima questa coppia di angoliere, sempre Emilia Romagna. Una e due, di dimensioni importantissime e anche di qualità molto alta. Niente, vi abbiamo dato questa novità. Sul sito trovate tutto. Vi ricordo, il mio recapito è 351 690 4263, oppure scrivetemi su assistenza clienti, chioccioladimanimano.it. Vi ricordo, un po' in anteprima, che il sabato 16 e domenica 17 ci saranno i magazzini aperti. Cosa sono? È un momento in cui poter visionare tutto il magazzino liberamente, poi chiaramente potete essere seguiti dai nostri venditori, senza vincoli. Quindi negozi e magazzini aperti. Vi aspettiamo sabato e domenica, appunto, dalle 10 alle 19 con orario continuato. Per qualsiasi informazione, scrivetemi. Vi saluto, alla prossima. Ciao!